Buonasera Baldini, io non ho domande o due considerazioni che se lei vuole può commentare o non commentare. La prima è che la riguarda un po' più da vicino è che questa squadra in passato ha dimostrato che quando gioca con un solo attaccante diventa troppo prevedibile e sterile. La seconda invece è che mi dispiace perché lei stasera non doveva venire in conferenza stampa, sarebbero dovuti venire i calciatori come hanno fatto in passato tutti insieme a dare delle spiegazioni non tanto a noi perché noi riportiamo i fatti quanto a 60.000 persone che rappresentano questa città. Ma dimmi la prima l'ho capita, fammelo una per volta perché Allora in passato questa squadra quando ha giocato con un solo attaccante, l'altra è che lei stasera non doveva essere in conferenza stampa, sarebbero dovuti venire i calciatori come hanno fatto quando è stato esonerato la prima volta Zauli, che sono venuti in conferenza stampa e ci hanno chiamato tutti per chiedere che Zauli non fosse esonerato e hanno detto che ci mettevano la faccia e questa sera forse sarebbe stato il caso che venissero di nuovo tutti insieme a metterci la faccia su questa sconfitta e a dare spiegazioni ai tifosi del Crotone. Vabbè, io faccio l'allenatore e devo cercare di difenderli, devo cercare di difenderli nel senso senza prendere in giro nessuno perché abbiamo un aspetto di fragilità che io non mi sarei mai aspettato che dei ragazzi che giocano a calcio che si perdono così in un bicchier d'acqua contro avversari normali, contro avversari che ci mettono un po' del cuore, un po' di cose e soprattutto quando inizia il secondo tempo che la squadra perde proprio, perde tutti i riferimenti perde tutto quello che c'è di buono quindi non riesco veramente a capirli ora stasera sono convinto che la terza partita in cinque giorni ha creato questi tipi di problemi perché se tutte le volte il secondo tempo andiamo in difficoltà vuol dire che c'è qualcosa alla base del lavoro che facciamo che non riesce a portare qualcosa di buono quindi ripeto, in queste situazioni qui, come ho detto ai ragazzi se io non sentissi, soprattutto da parte della società, affetto oltre che stima, affetto io non piglio la macchina e me ne vado a casa non è che a me c'è un'età che sono talmente grande che dedicare il tempo che ho a disposizione a questi tipi di figure mi scoccia però sapendo anche che chi ho alle spalle oltre a stimarmi veramente sento l'affetto sento la voglia di aiutarmi non mi va a alzare bandiera bianca che sarebbe la cosa più logica e più semplice perché quando si fanno queste figure è inutile stare a giustificare o stare a parlare e questo, come ti ripeto, mi dispiace io cerco, come ho detto a loro, di aiutarli poi ci sono delle piccole stupidaggine per esempio domani avevamo il giorno libero ma non si può lasciare il giorno libero a un gruppo di ragazzi che fa una prestazione del genere il giorno libero si lascia quando siamo in grado di dare dignità al nostro lavoro di dare forza al nostro lavoro perché poi le partite si possono anche perdere però si possono perdere in questo modo qua questa è la verità buonasera buonasera mister ciao a parte che sono non completamente d'accordo con Bruno di più al 200% però un attimo fa lei ha parlato di presa in giro l'ha detto lei non l'aveva capito ha parlato di presa in giro poco fa ma mi scusi un po' ci sentiamo tutti presi in giro perché scusate è vero che ogni scarrafone è bella mamma soia è vero però continuare a difendere questa gente che va in campo io non lo so fino a che punto sì ma il problema è uno che venire qui e metterli alla mercè di tutti i problemi che noi abbiamo cosa faccio? giustifico io? no nel senso io sono l'allenatore io devo cercare ora ho saputo che viene Gigliotti che viene il capitano perché onestamente io lei da solo lì non è una bella cosa perché non è l'unico responsabile di quello che sta succedendo sì ma ho capito che ognuno si assumesse le proprie responsabilità ma io capisco che devono piarsi delle responsabilità ma in questo momento qui sono persone deboli sono persone in difficoltà se io non sto vicino a loro in questo momento e me ne posso andare via io devo cercare di far capire che qui stiamo tutti lavorando per venire a capo di questa situazione poi se non le facciamo le cose è un altro discorso però voglio dirti io in questo momento non posso andare giù con la scure quando poi lo sanno anche da loro che la figura che hanno fatto non è una figura che li rispecchia ripeto io anche quando perdevamo 3-0 dicevo sempre guardate che c'è la dignità da difendere guardate che c'è la dignità la dignità voleva dire cercare di far vedere fino in fondo che lottiamo tutto lì buonasera mister Maria Rosalia De Pietro RT Calabria io le dico la verità è alquanto imbarazzante continuare magari a discutere della partita perché forse peggio di così oggi non si può fare lei però parla di aiutare aiutare la causa io ho due soluzioni e quando esco di qui metto le valici in macchina e me ne ritorno a casa mia dicendo sono arrivato nel posto sbagliato con i giocatori sbagliati e quindi risolvo il problema sono venuto sono 15 giorni 20 giorni li faccio gratis non voglio niente e me ne ritorno a casa mia o altrimenti devo cercare di andare in fondo al problema cercare di capire cos'è che attanaglia questi ragazzi cos'è che questi ragazzi vanno sempre a naufragare ci siamo l'altra sera a Messina pur soffrendo però ci siamo riusciti a portare a casa un risultato positivo e stasera il problema lì non capisco stasera il perché il perché una partita che era su le nostre possibilità di fare risultato pieno non ci siamo riusciti ecco il capire il perché poi io come ti ripeto cosa devo fare c'è due soluzioni non ce n'ho altre ho più la macchina me ne vado cioè c'è il pieno la macchina quindi non è che da quando lo sono venuto è sempre lì non si è mai mossa però voglio dirti è una soluzione se fosse una soluzione io non c'è nessun problema le chiedevo come intende aiutare questa causa cercando di lavorare e cercando pian piano di far giocare i giocatori che sono più come si può dire più funzionali a quello che noi vogliamo fare tutto lì far giocare quelli più funzionali che non c'è altro mister io volevo parlare un po' della partita perché al di là di un problema psicologico probabile non so se c'è un problema fisico relativo poi ai secondi 45 minuti che prima i 45 minuti il nostro palleggio l'abbiamo fatto la tina era chiuso dietro 0 ti rimporta anzi 1 quello di Dursi però volevo evidenziare una cosa colleghi prima gliel'hanno detta questa chiaramente interviene in secondo piano io vorrei capire se c'è scritto c'è una ricetta del medico che ci costringe a giocare per forza con una punta che dobbiamo fare per forza il 4-2-3-1 per dare una scossa alla squadra anche da prima a secondo tempo lei ha fatto tre cambi non è pensabile anche cambiare modulo mettere due attaccanti tentare in qualche modo di dare una scossa ad un ambiente che fare cambio su cambio con giocatori che oggettivamente o non sono ancora entrati nel ruolo non è un attaccante esterno Durzi non è un trequartista Comi è stato lasciato poverino isolato poi alla fine del primo tempo lo toglie ma è un giocatore che ha sofferto di solitudine forse è rimasto gli spugliatori perché aveva un po' di compagnia cioè c'è una situazione anche tattica che è molto confusa sicuramente anche io ho le mie colpe sicuramente quando loro fanno queste brutte figure uno dei responsabili sono io e io vedo questa squadra di costruirla in un certo modo e sicuramente ho anch'io i miei faccio anch'io i miei errori faccio le mie cose però non è che devo fare le cose perché mi si vengono suggerite devo fare le cose perché le vedo poi io i moduli li ho fatti tutti perché non è un giorno che faccio l'allenatore però come ti ripeto io ho sempre fatto giocare sempre tutti gli attaccanti però in questo momento gli attaccanti che avevo a disposizione erano Comi che venerdì giovedì e venerdì quando giovedì non si è allenato perché abbiamo fatto hanno fatto di faricante però venerdì non stava bene e ieri si è pian piano ha cominciato perché aveva problemi allo stomaco avevamo Gomez che non si è mai allenato fino a ieri sera perché aveva il problema al ginocchio rischiava di farsi male e Tuminello ha fatto quattro allenamenti quindi voglio dirti l'unico che si è allenato è stato Derrico che abbiamo provato a metterlo come anche trequartista a fare queste cose però secondo me al di là che sicuramente dipende può dipendere anche dai moduli ma io vedo la difficoltà proprio nella reattività nel cercare di trovare una soluzione ai problemi quando siamo in campo vedo i giocatori che a volte anche il terzo gol che abbiamo preso l'abbiamo preso in una maniera proprio da banale in una maniera proprio superficiale cioè non abbiamo preso un gol vedo queste cose vedo queste cose quindi però come ti ripeto l'allenatore sono io e le colpe ce le ho anch'io le mie colpe non posso darle solamente a loro e io tirarmi fuori salve mister Giuseppe Livadotti della provincia che appena lei è qui da quattro giornate quindi ha visto quello che ha visto però noi è dall'inizio del campionato è un percorso del Crotone che già contro la Tursa alla seconda di campionato ha perso la prima partita in casa e era andato in svantaggio addirittura di due gol poi la partita è terminata 3 a 2 ma sempre in vantaggio e poi c'è stato tutto un percorso ora arrivare alla trentunesima partita lei sta dicendo quello che sta dicendo qui non si tratta che in qualche partita i giocatori non si esprimano qui è dall'inizio della stagione che i giocatori non si esprimano perché il Crotone non ha mai dimostrato di essere un fulmine di guerra e le ripeto fin dalla seconda giornata hanno vinto a Catania la prima partita poi qui hanno perduto con la Tursa e di seguito a Benevento poi si sono fatti rimontare ora il problema di questa squadra il problema di fondo quale è perché qui è una squadra che il secondo tempo sembra che decidono in blocco noi da questo momento siamo negli spogliatori e poi qua arrivano allenatori che addirittura elogiano la loro squadra come se fosse diventata il il Brasile dei vecchi tempi tutti che sono grandi campioni i loro giocatori e noi sentiamo queste tiritere degli allenatori che si esaltano al cospetto di un controllo ora il problema reale qual è? cioè qui non si tratta più di una questione di preparazione o quanto ma qual è il problema reale? è una serie di problemi come appunto diceva il suo collega che potrebbe essere un problema da modulo potrebbe essere una questione fisica potrebbe essere una questione psicologica cioè è tutto un insieme di cose che porta la squadra a fare questi tipi di espressione le mie soluzioni sono quelle lì non credo non credo di essere io la persona che possono palleggiarmi non sono uno io sono uno esatto io sono uno che ho la mia personalità e rispetto me lo so far portare e professionalmente so cosa dare cosa fare però se queste cose accadono c'è qualcosa che sicuramente non riesco a mettere a fuoco nemmeno io altrimenti tutte le volte altrimenti avremmo risolto il problema buonasera mister Francesco Peningo lo CN24 mister lei è un uomo navigato un uomo di calcio per cui sentirle dire le due soluzioni che aveva prospettato prima non è da lei io comunque alle due soluzioni ne aggiungerei una terza ha pensato come si faceva un tempo di portare la squadra in ritiro ovvero che cosa è successo tra primo e secondo tempo perché contro il Messina restano intatti gli interpreti e la partita si porta a casa oggi tanti interpreti nuovi nella seconda frazione di gioco il Crotone è uscito dal campo quindi c'è un problema di comunicazione perché questa involuzione perché poi alla fine di questo è nel gioco tra il primo e il secondo tempo dove il primo tempo il Crotone costruisce e costruisce palleggia e fa un gioco gradevole mentre nel secondo tempo smarrisce proprio il pallino del gioco cioè a cosa è dovuto mister a cosa è dovuto è dovuto è dovuto che la fragilità di questi giocatori questa fragilità nelle difficoltà sono sicuro che se ti faccio vedere la preparazione che abbiamo fatto abbiamo un ragazzo come si chiama il nostro merchanalist Giuseppe che è bravissimo a creare il possesso di palla a creare come dobbiamo andare a pressare a come dobbiamo scalare sono sicurissimo che sareste capaci anche voi senza giocare di fare queste cose qui è proprio che quando sei lì manca poi alla prima difficoltà viene a mancare proprio lo spirito viene proprio a mancare lo spirito si inaufraga non c'è più non c'è più la speranza di ribaltare la partita il Foggia ce l'ha ribaltata in tre minuti fino all'80 terzo il Giuliano a fine del primo tempo avrebbe sperato magari di non prendere il terzo e quarto gole addirittura ce ne ha fatti tre stasera questi sono venuti hanno cercato di contenerci ma non credo che avrebbero pensato di divertirsi così perché poi si sono proprio divertiti nel farci male è così è inutile mettere il dito nella piaga dai